...unite, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Teologico di Assisi, il Pontificio Collegio Leoniano Adanani, Paolo Benanti e anche frate Francescano. Da molti anni si occupa di etica delle tecnologie. Tra l'altro ieri ho avuto modo di partecipare a un convegno sul tema cyber e mi è piaciuta la definizione di quello che può essere l'intelligenza artificiale come un esoscheletro a supporto dell'uomo ma non deve assolutamente sostituire l'uomo. Quindi lascio volentieri a lei la parola. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Comincio col dire il piacere e l'onore di poter essere qui oggi. Comincio in una maniera, permettetemi, con una battuta. Io sono un francescano ma sono allievo dei gesuiti. E una delle prime cose che mi dissero i gesuiti è che spiegando le cose loro procedevano sempre a tre punti. Quando ho finito il mio percorso di studio ho chiesto al mio professore gesuita perché lui parlasse in tre punti e lui mi ha detto che primo è meglio, secondo non c'è niente di male, terzo non è vero. E quindi capite che di fronte a questo io non posso che presentare i temi che vi vorrei presentare in tre punti e questa era una scusazio, giusto per giustificare l'indice di questa cosa. Partirei da una spiegazione formale perché etica e tecnologia, ossia qual è la postura accademica di chi vi parla. Ecco, per dire qual è la relazione tra etica e tecnologia ricorro a quella che è stata l'esperienza della mia formazione. Io ho fatto un pezzo di dottorato negli Stati Uniti a Georgetown e il professore che ci seguiva come classe di dottorato per farci rispondere a questa domanda ha organizzato una visita sul campo, ci ha portato da Washington a Manhattan e a Manhattan noi eravamo tutti entusiasti, chissà che cosa potevamo andare a vedere e ci ha portato a vedere in realtà un'autostrada, un'autostrada a sei corsie che unisce Manhattan con Long Island e ci ha chiesto cosa vedete. Ecco, nonostante ciascuno di noi cercasse di essere il più brillante della stanza e abbiamo provato a dire tutto l'unica cosa che vedevamo era asfalto e cemento armato. Ci ha portato poi in una biblioteca pubblica a Manhattan e lì ci aspettavano una decina di copie di un testo di oltre mille pagine che poi abbiamo scoperto essere tra i cento migliori testi non di natura romanzata della letteratura americana ed era la vita del politico che ha innovato Manhattan, che ha dato a Manhattan quello skyline che conosciamo oggi che ha costruito quell'autostrada. Il politico si chiama Robert Moses, molto famoso nella cultura americana e lui aveva un'idea di società che all'epoca era molto condivisa, oggi probabilmente sarebbe inaccessibile o inaccettabile. Nella sua prospettiva le parti migliori della città erano e dovevano essere riservate solo per le classi sociali migliori. Siccome a Long Island c'è Jones Beach, che è uno dei parchi naturali più belli intorno a New York, ecco, Jones Beach doveva essere accessibile solo alla white middle class, alla classe media ricca bianca. Come ha fatto a fare questo? Moses per prima cosa non ha costruito nessun sistema di trasporto pubblico e quei punti, che a noi sembravano punti in calcestruzzo come quelli che stanno sulla 1, in realtà erano due piedi 66 centimetri più bassi dello standard e nessun autobus può passare sotto quei punti. La fine della lezione era questa, che ogni artefatto tecnologico, indipendentemente da come è progettato, nel suo impatto con la società è una funzione d'ordine e un dispositivo di potere. Ecco, l'etica della tecnologia non è innanzitutto una questione normativa, ma è un mettere in questione la tecnologia e l'innovazione perché queste funzioni d'ordine, questi dispositivi di potere siano trasparenti ed emergano per tutti gli stakeholder, cioè per coloro che sono chiamati poi a prendere in carico l'esercizio di questi elementi. Oggi non è più solo materia di cemento armato e asfalto, ma come purtroppo abbiamo visto durante la pandemia, l'accesso a un diritto fondamentale come l'accesso al diritto alla salute è stato ordinato tra i cittadini attraverso un algoritmo nascosto dietro un portale di sanità ragionale, che diceva chi si vaccinava prima e chi dopo. La cosa è stata fatta in maniera trasparente, comunicata ai cittadini, è fatta secondo un criterio scientificamente condiviso. Ciò non toglie che l'algoritmo ha questo potere di ordinare e di dare una disposizione d'ordine ad altri elementi sociali. Ecco, con questa prospettiva metodologica io oggi vorrei, e qui passo già al secondo punto, interrogare l'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale nel suo impatto sociale, che forma d'ordine e che disposizione di potere è? Ecco, per rispondere a questa domanda, la prima cosa che dobbiamo riconoscere è che l'intelligenza artificiale è un artefatto, cioè un costrutto umano, come lo erano i ponti di Moses. E in quanto costrutto umano, è un costrutto umano specifico. È qualcosa che fino a ieri non avevamo iniettato nella società. Tutto nasce, se vogliamo, da un modo diverso di progettare la macchina in quel lungo percorso di automazione che ci accompagna dalla rivoluzione industriale, che a un certo punto è stato fatto da Edward Shannon, inventore del concetto stesso di informazione. Una delle prime macchine che oggi definiremmo intelligenti era un piccolo topolino meccanico, dal nome Teseus, che camminava all'interno di un labirinto tutto cablato, all'epoca c'era bisogno di questo, Shannon lavorava ai Bell Labs, e sbattendo su ogni singola parete, faceva scattare un piccolo relè che produceva una rotazione di 90 gradi, e quindi, urto dopo urto, trovava l'uscita dal labirinto. Era il 1948. Ora, l'invenzione del 48 di Shannon l'abbiamo messa sul mercato nel 2001 con il nome di Rumba, l'aspirapolvere che pulisce per terra, perché abbiamo avuto bisogno che la casa non fosse tutta cablata perché funzionasse. Questo per dirvi che le intuizioni che stanno dietro all'intelligenza artificiale navigano all'interno della cultura informatica, almeno negli anni 50, oggi, grazie ai progressi dell'elettronica, riescono ad essere applicati e a essere vendibili, a essere fonti di guadagno. Ma la macchina di Shannon aveva una novità che nessun altro aveva. Cioè, fino all'allora, l'innovazione industriale era in grado di surrogare un qualcosa che era il lavoro della forza umana, che era l'esercizio di qualcosa messo in atto all'interno di una processione industriale. E quindi la prima pressa, fino alle macchine a controllo numerico, altro non erano che surrogati del muscolo umano. Ora, la macchina ha una caratteristica diversa. La macchina acquisisce dei fini dall'uomo e trova i mezzi per portare a termine quei fini. E uno degli assunti base da Socrate in poi, per quanto riguarda l'etica, è che il fine non giustifica i mezzi. E se il fine non giustifica i mezzi, questa macchina ha intrinsecamente una dimensione etica che deve essere messa in discussione prima della sua applicazione. Nella pluralità degli artefatti. Per cui, intelligenza artificiale non è una cosa, ma sono un insieme di cose. È chiaro che io potrei usare un sistema di riconoscimento delle immagini in un'applicazione industriale, per cui in una colonna di chicchi di caffè che vanno in terrefazione, posso riconoscere con estrema accuratezza qual è il chicco di caffè che presenta delle tracce di muffa. Scarto quel chicco, scarto quello sopra, scarto quello sotto per evitare cattivi sapori e ottimizzo il processo industriale. Lo stesso artefatto lo posso usare per scegliere chi può entrare o non entrare per esempio in un emergency room, in un pronto soccorso. Allora qui c'è la doppia problematica. La problematica che riguarda la conoscenza della tecnologia e la problematica dell'impatto sociale di quella tecnologia in un contesto. Questa seconda cosa poi ha bisogno di essere applicata a una caratteristica fondamentale del tipo di innovazione che è l'intelligenza artificiale. Nella storia dell'uomo noi conosciamo due tipi di artefatti. Un artefatto è sostanzialmente un artefatto che si chiama special purpose che risponde a una domanda umana. Ho fame e rispetto alla fame invento la zappa, l'aratro, l'aratro a spalla, l'aratro a buoi, il trattore, il trattore a guida autonoma. Dove di fatto l'innovazione non è altro che un processo che aumenta l'efficacia di produzione di quell'artefatto portando effetti sempre più ampi. Tuttavia nella storia dell'innovazione tecnologica ci sono momenti in cui non faccio un artefatto che serve a fare qualcosa ma che cambia il modo di fare tutte le cose. Questo strato innovativo si chiama general purpose. Si discute nell'accademia se la prima cosa innovativa di questo tipo sia stata la ruota. Senz'altro lo è stata l'energia a vapore, lo è stata la corrente elettrica. La corrente elettrica non serve a fare una cosa ma cambia il modo di fare tutte le cose. Ecco, quando abbiamo applicato la corrente elettrica abbiamo notato che è successo qualcosa di diverso. Cioè, oltre alla intrinseca costituzione di forza di potere e di disposizione che ha l'artefatto, quando applichiamo le tecnologie general purpose succede anche qualcosa d'altro. Quando abbiamo distribuito la corrente elettrica ci sono stati due modelli. Un modello fatto da Samuel Insul, questo irlandese emigrato in America, fondatore della General Electric Company, che ha applicato un modello di distribuzione che agli americani piace chiamare democratizing, ma che ha molto poco a che fare con il nostro concetto di democrazia. Significa abbassare il prezzo perché più utenti lo acquistino e il bene si diffonde. È quello che accade per esempio oggi con i giga del cellulare. Ci sono offerte in cui sempre più giga con meno prezzo. Contemporaneamente è comparso il primo piano quinquennale della nascente Unione Sovietica dove Lenin ha utilizzato la corrente elettrica per fare quello che è il piano Goelro. Il piano Goelro prevedeva la sovietizzazione delle repubbliche mediante la distribuzione dell'elettricità. Cioè quando la tecnologia che applichiamo è una tecnologia general purpose è una tecnologia che porta in sé anche una visione di mondo e di organizzazione dei fini. Lo vediamo in tracce che compaiono tutti i giorni sui giornali nell'attenzione che c'è tra un modello occidentale e un modello non occidentale specie nel mondo delle tecnologie digitali e nel mondo delle intelligenze artificiali. Ecco arrivo così al terzo e ultimo punto dove vorrei cercare di mettere a fuoco alcuni punti specifici dove secondo me questa forma di tecnologia sfida radicalmente quelli che sono i diritti umani. Allora il primo grande elemento riguarda la natura dei dati che lavora questa intelligenza artificiale. Il grande potere tecnologico che ha l'intelligenza artificiale è quella di essere rispetto ad altri modelli tecnologici non più ex post ma ante. Cioè è predittiva. Se io applico l'intelligenza artificiale ai dati raccolti dai sensori, da un sistema ingegnerizzato cioè da uno di quei sistemi che non ha tanti gradi di libertà ma solo quelli che l'ingegnere gli ha lasciato la variazione dei dati o l'anomalia dei dati riesce a dire all'intelligenza artificiale cosa accadrà e quando. Se io erroro di sensori la stazione spaziale internazionale, l'anomalia delle vibrazioni dei compressori d'aria dicono agli astronauti tra quanti giorni, ore, minuti e secondi si romperà quel compressore. Posso intervenire prima che accada un failure. Questo è fondamentale per la sopravvivenza degli astronauti stessi. Se lo faccio su una nave da 20.000 tonnellate che trasporta merci nell'oceano, posso da una parte evitare fermi macchina non necessari per manutenzioni che non servono. Dall'altra evitare che 20.000 tonnellate baghino senza controllo nell'oceano pacifico. Se però applico questi dati, questi sistemi, non a dati prodotti da un sistema ingegnerizzato ma a quello strano sistema a base di chimica del carbonio, noi, che è dotato di una strana cosa che si chiama libertà, la macchina non diventa solo più predittiva ma diventa anche produttiva di un comportamento. Lo sanno molto bene chi gestisce le piattaforme di e-commerce, dove quel forse ti interessa anche, non ha predetto quello che mi interessa, ma ha prodotto un 8-20% in più di comportamenti. Questo riguarda per esempio tutti gli algoritmi di suggerimento. Questo sistema è conosciuto e ha vinto un premio Nobel come teoria economica del nudging o della spinta gentile. Ora, io qui non ho tempo per entrare in questo, ma c'è un grande problema etico e filosofico, che è il problema della normatività. Da noi in Occidente usciamo dalla modernità con Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, e questo modello va in crisi col processo ad Eichmann, dove quella legge morale ha prodotto l'uccisione di 6 milioni di persone. Ancora di più nel 76, qui ci sono tutti gli scritti di Anne Arendt, nel 76 Roland Barthes, al Collège de France, dirà il linguaggio è fascista, non perché impedisce di dire, ma perché obbliga a dire. Cioè l'idea che ci sia un qualcosa di normativo, che dopo il verbo vuole il complemento oggetto, veniva visto come intollerabile. L'effetto per l'uomo comune è questa tensione a passare dal semaforo, perdonatemi la battuta, dispositivo normativo esterno kantiano, alla rotonda in cui soggettivamente ci autoregoliamo. Però è chiaro, e voi siete esperti su questo, che un sistema sociale senza regole implode, non riesce ad andare verso il bene comune. Come possiamo sopravvenire a questo? Ecco, è stato trovato questo sistema, studiato questi psicologi, dove degli stimoli esterni, e gli stimoli digitali sono perfetti per questo, possono aiutare a cambiare il comportamento. Io ve la racconto com'è nata, è una storia un po' sporca, nel senso che è nata l'aeroporto di Schiphol, in Olanda, che è uno degli aeroporti più grandi, dove ci si è accorti che sostanzialmente pulire i bagni dei maschi costava più del doppio di pulire dei bagni delle donne, per motivi facilmente intuibili. Il dispositivo normativo esterno non funzionava, cioè se io avessi scritto per favore lasciate puliti o qualcos'altro, lo potevo scrivere grande quanto volevo, non cambiava. Gli psicologi sociali si sono accorti che bastava disegnare una piccola mosca al centro della toilette, per cambiare questo comportamento, il costo della pulizia dei bagni degli uomini è sceso più o meno a quel costo della pulizia dei bagni delle donne. Questo, volendo fare una bottuta, la dice lunga sul cervello maschile, ma la dice anche lunga su un nuovo modo, che non è più quello di proporre una legge pubblica, ma di mettere in atto dei meccanismi sociali, magari digitalmente mediati, che possono cambiare il comportamento delle persone. Non voglio né offendere qualcuno né fare altro, ma io penso che la prima volta che sia stato applicato in Italia è stato col cashback, dove io potevo fare un dispositivo normativo più grande, che diceva pagate in chiaro, pagate le tasse, è bastato un piccolo ritorno, un meccanismo di ritorno, come nel topo di Shannon, che è il 10%, e le persone si sono scaricate. Quella app, 10 milioni mi sembra, in una settimana. Ecco, questa cosa qua, e qui arrivo, è intenzione con quel fondamento legato ai diritti umani che fonda la rule of law, lo stato di diritto. Se noi leggiamo Rawls, nella sua teoria della giustizia, Rawls ci dice che la rule of law ha bisogno di 5 formal constraints, cioè di 5 limiti formali perché sia uno stato di diritto. Ne usiamo tre. La legge deve essere conoscibile, la legge deve essere universale e la legge deve essere generale. Questa pseudo-legge algoritmica che mi può forzare è conoscibile? L'esperienza che abbiamo di questi device ci direbbe di no, però potremmo pensare magari di fare il codice aperto. Bene, purtroppo c'è un paper, c'è un testo, vincitore dell'equivalente del Nobel dell'informatica che si chiama Premio Turing dell'82, il cui titolo è Trusting the Trust, che ci dimostra che il codice, una volta compilato, non lo capisce più nessuno, ma non solo che nell'atto di compilazione io potrei iniettare qualsiasi cosa nel codice e nessuno se ne accorgerebbe. Qui c'è un primo punto di tensione tra la pseudo-legge algoritmica, cioè questo dispositivo capace di cambiare il comportamento delle persone, e la rule of law. Questa pseudo-legge algoritmica è universale? Ecco, in realtà profila. Quindi sceglie qualcuno e gli dice qualcosa a qualcuno e qualcuno a un'altra. Seconda tensione. E Rawls dice che deve essere pure generale, dove generale riguarda il soggetto. Io potrei fare una legge che dice tutti devono obbedire a padre e benanti, a me non dispiacerebbe, ma il soggetto sono solo io. Mentre la Costituzione ci dice come varia questa soggettualità all'interno dello Stato. Ecco, l'algoritmo obbedisce solo al padrone del server. Questi tre punti, secondo me, sono il punto eticamente più rilevante dell'impatto sociale delle tecnologie di intelligenza artificiale con questa condizione di diritti umani, che è la condizione di esercizio di libertà e responsabilità individuale. La seconda grande questione, molto comunicata sui giornali, è che questa profilazione, quindi questa non-universalità, avviene in funzione dei dati raccolti. E nei dati raccolti potremmo avere delle preferenze sistematiche nei dati. In inglese si chiama bias. A volte lo traduciamo come pregiudizio. Io proporrei preferenza sistematica perché a volte noi le vogliamo alcune preferenze sistematiche. Per esempio, dire che una macchina non deve uccidere una persona è una preferenza sistematica. Dire che però possa discriminare una persona in base al cap di provenienza è una preferenza sistematica che non vogliamo. O in base al genere, o in base ad altre caratteristiche che magari la macchina reputa rilevante, ma che non rispettano alcuni impianti valoriali fondamentali, per esempio costituzionali. Infine, ultima cosa, e mi taccio per non invadere troppo il tempo che mi ha dato a disposizione, oggi abbiamo una nuova frontiera di intelligenze artificiali che sono le cosiddette intelligenze artificiali generative. Queste intelligenze artificiali generative hanno la capacità di produrre immagini e testi. Cioè di produrre cultura. E la cultura da sempre è, citando a rari, quel sistema operativo, tra virgolette, che regola il funzionamento o la relazione tra persone. Quindi tecnicamente abbiamo dei sistemi, il prossimo anno almeno 600 milioni tra europei e americani andranno al voto. Abbiamo degli strumenti che potrebbero alterare fortissimamente l'opinione pubblica e anche gli equilibri all'interno dello spazio pubblico, in tensione, per quello che ci siamo detti prima, con quello che è lo Stato di diritto. Ecco, queste secondo me sono le tre domande più urgenti, ce ne sarebbero un'altra serie di domande a cadere, ma penso che rispetto alla questione dei diritti umani possano essere le domande grappolo, da cui poi derivano tutta una serie di altre questioni. Grazie. Grazie a lei per questo approfondimento e quindi ci lascia indotte una serie di riflessioni che già sul tema dell'intelligenza artificiale ognuno di noi poteva avere, ma con queste ulteriori riflessioni ci interrogano su questo, che comunque è un'innovazione che potrà essere di aiuto, sicuramente sì, ma se non gestita con le dovute cautele potrà essere anche pericolosa, in modo particolare io penso anche per i bambini, i giovani, e quindi effettivamente un'analisi approfondita merita. Qualcuno vuole intervenire? Presidente Giulio Terzi. Grazie Finita Presidente e grazie Professor Benanti per questa illustrazione, materia sconfinata, angosciante prima di ogni altra cosa, angosciante per i legislatori, quelli che siamo noi. Siamo oramai, non dico anni luce, ma a una rincorsa forse disperata di quello che sta avvenendo. Mi è arrivato un libro sul tavolo, proprio questa mattina, una coincidenza, in cui si descrive uno dei punti è la differenza biochimica fra il processo di elaborazione dei dati e di una mente, di un cervello, che ha una capacità di contatti neuronali, lo dico da profano, di 100 trilioni, e la capacità di un sistema ancora attualmente di intelligenza artificiale, al massimo di potenzialità, che ha mezzo trilione. Ma le modalità nelle quali i contatti avvengono nel sistema cellulare sono infinitamente più lenti della velocità elettronica di un elettrone di BIP, per il quale, se noi siamo 20 in questa stanza e diffondiamo il nostro messaggio alle 20 persone intorno a questa stanza, questo avviene in forma chimica. In forma atomica o subatomica, questo avviene in modo, senza utilizzo di tempo, praticamente, a una destinazione infinita di soggetti, possono essere tutti quelli che sono collegati, possono essere miliardi di persone. Questo è un elemento angosciante per il futuro dell'evoluzione dell'intelligenza basata sul... Lei si è riferito, professore, a una cosa, CiaGPT. Abbiamo vissuto le vicende di queste ultime due settimane. Cos'è emerso in questa capacità di controllo dell'azienda? Contatti, Microsoft, CiaGPT, eccetera. È emerso che la lobbying di immensa forza politica di chi vuole tutelare il profitto a danno della sicurezza è vincente, almeno per il momento, ma è prevedibile che ci sia. Se tutta questa crescita viene lasciata ai giganti dell'informatica e che è in mano loro, è difficile immaginare che avvenga diversamente nei prossimi anni. Gli Stati devono reagire. Un mese fa, la dichiarazione di Batchley, Paesi dell'Unione Europea, più 28 Stati, organizzata dagli Stati Uniti, per una visione sulle modalità di sviluppo dell'intelligenza artificiale, cioè le regole, trasparenza degli algoritmi. So se era la prima legge di Asimov. Nulla le macchine devono fare che nuoccia l'umanità. Ecco, cinque anni, si sono dati cinque anni per elaborare una visione di questa cosa. E qui, se qualcuno è affetto da angosce, non credo che risolva i suoi problemi. Ecco, qual è la, che speranze abbiamo di poter, a un certo punto, non dico controllare le macchine, ma perlomeno incanalare lo sviluppo ulteriore che è già avvenuto, ma che è sempre più drammaticamente vasto dell'intelligenza artificiale. Qualcun altro vuole intervenire? Il collega Pelegrino. Il collega Pelegrino. Il collega Pelegrino. prossimo garantirebbe la realizzazione di bambini per tutti e per tutte le coppie che, fra l'altro, avrebbero anche la possibilità economica di averne. Quindi, già in Fieri è un programma americano che già sta raccogliendo fondi e quindi si mette sul campo la possibilità di utilizzare degli uteri artificiali. credo che siano già 300 postazioni con qualche insomma difficoltà nell'applicazione però tutto derivato appunto da un meccanismo artificiale che garantirebbe di fatto la costruzione di bambini. Quindi, in merito a questo che viene da un lato come dire rivendicato come la possibilità di dare figli a chi non ne può avere figli insomma con anche una selezione lo dicevamo prima rispetto a presupposte malattie o altro e quindi dall'altro lato poi ci consente che è anche di introdurre un problema di selezione delle persone o di eugenetica come ci possiamo comportare come possiamo affrontarlo. A lei la parola. Grazie e questioni molto grandi ne approfitto per salutare il Presidente Terzi ci incontrammo mentre facevo proprio quel famoso dottorato no ancora prima negli Stati Uniti quando lei era ambasciatore c'era una giornata degli italiani io studiavo a Georgetown e ci vedemmo in quella occasione il mondo è piccolo come dire bene grazie dunque io penso che le due domande tocchino un punto e un punto che in questo momento è il punto più interessante c'è un livello di fusione tra biologico e tecnologico e questo livello di fusione io ve la comunico come una cosa che è nata da un paio d'anni è particolarmente discusso da un gruppo che è nato a Ginevra che si chiama GESDA che è il forum di Ginevra per la diplomazia delle tecnologie dove ex membri delle Nazioni Unite andati in pensione hanno sentito il bisogno di preparare le varie parti in causa proprio per l'impatto che queste tecnologie innovative avranno sulla società e quindi preparare la politica a gestire questo il punto centrale di quest'anno al GESDA io ero invitato tra i relatori è stato proprio l'arrivo degli organoidi cioè l'arrivo di questi pseudo chip che non sono più in silico ma sono biologici proprio per andare oltre quel gap che il silicio ha mi fermo un attimo nel senso che avete toccato un punto chiave ma quanto questo arriverà forse servono due, tre, quattro cinque anni ancora però è chiaro che l'IBM ha appena rilasciato un chip che mima il funzionamento della biologia quindi diciamo le grandi compagnie tecnologiche stanno correndo in questa direzione e la biologia diventa sempre di più tecnologia questo aprirebbe una serie di campi torno al tema di questa audizione dicendo che di fatto abbiamo bisogno innanzitutto di una preparazione culturale perché un paese che voglia essere democratico fonda le sue capacità democratiche sulla preparazione che c'è anche la cittadinanza ad assorbire e a gestire questo tipo di innovazione quindi forse diventa anche urgente riuscire ad alzare il livello medio di comprensione di questi temi perché ci possa essere una risposta della società civile adeguata e con questo vengo anche alla riunione di Bletchley Park perché se c'era una cosa che mancava Bletchley Park era proprio la società civile c'erano i governi c'erano le tecnologie non c'era assolutamente la società civile che è quella parte intermedia quegli organismi intermedi che hanno il compito un po' come gli enzimi di decodificare qualcosa e di rioffrire poi anche parti in parte di soluzioni o di analisi a quella che poi è anche la classe politica detto questo aver impostato tutta la presentazione sulla rule of law dice chiaramente una cosa che io non voglio nascondere le democrazie terranno se riescono a ribadire anche di fronte all'esistenza di nove grandi compagnie che valgono più di un trilione e l'impatto delle tecnologie generative sull'economia è stimato da McKinsey in 4 trilioni di dollari l'anno il prodotto interno lordo di tutta il Regno Unito è 3,3 ecco se le democrazie riusciranno ad addomesticare questi grandi questi grandi colossi ricordando in fondo quel grande principio lo dico in inglese che no one should be above the law ecco questo sarà quello che porterà queste tecnologie anche al benessere di tutta l'umanità potrebbe portarlo altrimenti vedremo degli scenari che non siamo pronti a gestire perché non è mai successo prima e questo è la parte economica la parte più interessante avete citato chat GPT concludo dicendo che siamo più o meno a un anno dall'uscita di chat GPT ma se noi guardiamo il progresso economico di OpenAI OpenAI nel 2018 valeva 200 milioni e lo sappiamo perché Musk se n'è andato portandosene via la metà del valore che era 100 milioni il 23 gennaio di quest'anno quando Microsoft ne ha acquistato la metà la metà valeva 11 miliardi otto giorni prima della defenestrazione che poi è stato il reingresso di Sam Altman valeva 90 miliardi allora questa esplosione di valore ci dice anche che gli interessi sono enormi attorno a queste società possiamo parlare difficilmente di solo business secondo me ci sono anche degli interessi geopolitici e degli interessi più grandi ecco perché la tecnologia secondo me va sottratta a questa visione meramente tecnica e va introdotta all'interno di questa visione socio-tecnica e quindi di necessaria governo politico con tutte quelle fatiche quelle lentezze che può avere un governo democratico di un processo che però la rende in qualche misura compatibile con lo stile di vita che abbiamo scelto volere che è quello della Costituzione grazie davvero per questa audizione perché effettivamente è stata molto non solo interessante ma arricchente nei suoi contenuti prima di chiudere i lavori volevo annunciare che come richiesto e come programmato noi oggi dovevamo avere un ufficio di presidenza visto che la scorsa settimana il collega Sensi ne aveva fatto richiesta ma proprio il collega Sensi oggi mi ha segnalato di avere una problematica quindi mi ha chiesto se era possibile rinviarlo se non ci sono problemi da parte vostra io lo rinvierei la prossima settimana va bene? grazie